buon ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale di stromanti se continuiamo con il nostro qui batuffolino ragazzi mi piace un sacco allora e dovevamo vedere scusate io ogni tanto mi guardo con i tasti parla con etwa sulla pietra del cantastoria ma dove sta etwa la sopra ma scusa ma ci possiamo sì ci possiamo andare a piedi comunque prima di andare a parlare ragazzi c'è anche un piccolo messaggino per voi se ti piace il mio canale che aspetta iscriverti e ricorda di mettere un like al video e attivare la campanellina allora e cos'è questo raccogliamo qua questa cosa qui tutta colorata impeccabile nascondattero ingrediente elevato vediamo tutto ok va bene questo borsa di stecco però creiamo così possiamo prendere bene così via eccolo 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 arriva ricorda di condimentato a capire di condimentazione suona italiana suona italiana suona italiana Non mi ha detto, non mi ha detto. Grown up, then. She made you feel important. It was the stories of the King Lord I loved most. I wonder what stories my people had. They stole them from you. All the Sky people have taken. My mother saw how their hearts are ruled by ignorance and greed. She stood up and was cut down, dying with Sky people metal inside her. We never spoke of the resistance after that. Your father thinks the price of fighting them has been too great. Will be too great. If we do not fight, we will lose everything. We did not want war. But they have made us warriors. We must bring the fight to them. Weeey. Ma anche io lo voglio fare. Daia. Daia così, ragazzi. Insomma... Missione... Pria, c'è qualcosa che sta succedendo nell'aria qui. Un signale di questi strani dispositivi. Questi RDA aereo? Oh. È disturbante il King Lord e il loro ciclo di alimentare nella forza. Se aiutiamo il King Lord, aiutiamo l'Oranahè. Hey, puoi scannare uno? Spero di sapere cosa fanno. Ok, individui, dispositivi aerei dell'aria nel cielo. Sud-est nel Bosco Seta, sopra l'isola della Spola. Sud-est, quindi... Sud-est, quindi qui. Quanto qui abbiamo un altro... La forza è piena. Quindi... Cavalchiamo. E andiamo! Se bella così. Mamma, che bello, ragazzi, volare qua. Scusate, però. Dobbiamo andare qua? Dobbiamo andare qua? Qua, qua, qui, qua, qua. Contrattacco. Condividuo i dispositivi aerei. E... Io, ma... Bosco Ombra. Bosco Seta. Dobbiamo andare qua? Ok. Annullo tracciamento. Comunque, stiamo andando giù, eccolo lì. Vai! Andiamo. Più veloci della luce. Ciao, ragazzi! Bella questa roba che uno... Ma ci possiamo arrivare? Tipo... Mostra, no. Stavo scherzando. No, no. Bello grande è qui, comunque. L'hanno fatto... Bello tosto. Una bella mappa grande. Namo. Pompas. Missione non tracciata. Cioè, suona della notte. Non mi interessa. Da che stiamo arrivando? No, se guardo giù... Eh, no. Per guardare giù devo bloccare col mouse. Mazza, che bello, eh! Grazie, a me sta piacendo sempre di più. Non so, voi... Stiamo per arrivare, eh. Ok, mostro i comandi. Nel frattempo... Terra, citrielle, citrielle smondo. Ok. Ma io posso attaccare... Tipo, con la freccia? Sì, grande! Bello. Possiamo fare di tutto, diciamo, eh. Diamogli un colpo di accelerata, qui. No, andiamo a vedere che cosa sono queste cose sospese, qua. Aspetta, a terra, vai. Ok. Eh, non ti preoccupare. Dai, siamo veloci. No, andiamo via! Allora, andiamo via! Allora, andiamo via! E' funzionato! Il pallone è sotto! Nice! Ehi, Telan, venite cercare questi dati. Oh, è questo? Oh, oh, oh! È un mappone radio. Oh, è abbastanza cool. Ok, ragazzi, io parlo poco perché sto cercando di capire... ...dicolo, certo? Eh, questo segno è forte. ...dicolo, è abbastanza strong enough to go underground. Do you think? Eh, esattamente, sì! Eh, ma probabilmente può prendere qualcosa. Minerali depositati? Oio? Ehi, sai, sai, io credo che... ...dicolo, è abbastanza... ...dicolo, Telan, puoi... È come un whole network di segnali, tagliando l'altro. Telan, mi lasciami sapere se il segno si è più forte, ok? Oh, ok, io lascio sapere. Ah, sì, vedo che sono tante. Ok, dobbiamo... Oh, la grande, va bene. Andiamo. Mi sa che però dobbiamo battere un attimino con gli aerei. Intanto andiamo in questo. Ok, andiamo con il 5. Facciamo queste missioni sbriche. Vai così. Vai rapidissimo. Cavalchiamo. E ci spariamo anche da qui. Andiamo, Fruv. Via! Grande così. Telan, qualcosa? Il signale è ancora forte. È... Non è davvero un problema, però, certo? Dice, non è fatto nulla. È più disruptivo di quanto sembra. Ho dobbiamo stoppare. Oh, ok. È abbastanza cool, però, E qui ora mi sa che dobbiamo battere questi qua, però facciamo una cosa, vai con l'arco, qui qua ora diventa complicato, vediamo come possiamo gestire qua. Questa è già una d'oste. No, sono morto. No. Sono complicati questi, ma... Oddio, dove stiamo? Scusa. Ok, dove stai? Sì, vieni qua. Cavalchiamo. Chi è questo? Dove stai? Dov'è? Dov'è? Dai. Scusa. Mi dai qualcosa? No, vabbè. E... Niente, ragazzi, qui le cose si mettono male. Perché come battiamo quegli elicotteri? Allora... Allora... Vai, andiamo. Allora... Dov'è anche questo, però... Ricarichiamo. Ok. Namos. Il problema sono... Ecco, quegli elicotteri lì... Insomma... C'è uno. Ok. Va bene. Molto semplice. E la sicurezza è zero. Un esplosso. Ok. C'è un altro. Non è buono. Questi dispositivi sono solo chiamati il segno. Devi arrivare alla fuori. Si sembra che si trasmette da un po' vicino. Il RDA delle pilarie. E tu sei là ora. C'è un po' di combattere gli uomini? Non lo rendono facile. Deylan. intanto andiamo... c'è qualcun altro qua? no namos questo invece ahia c'è l'elicottero spostiamoci da qui raggiungi Eto'a arrivo Eto'a ammazzarli c'è fumo dai ok acceleriamo mi sa che qui stanno combattendo uuuuuh uuuuuh uuuuuuuh uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh 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 spegni i generatori interni disattiva ragazzi non so quante volte qua dobbiamo morire però ok andiamo con calma lo stecco ce l'abbiamo un altro stecco bene pieno non ci facciamo scoprire raccogliamo ok ok usa il sito per distruggere il sito ok siamo qua circondati vediamo che qua non ci vedono almeno penso ok aia aia tiriamo e scappiamo scappiamo ragazzi non so se ci hanno visto oh santa dobbiamo scappare ragazzi di corsa scusate via 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 nooo ci hanno un beccato va bene riproviamo ok ragazzi lo so un po' complicata qua la situation un po' troppo complicato un po' troppo complicato namos andiamo di qua andiamo di qua e via allora da dove insomma dove siamo partiti va bene andava bene però più che altro che se si accorgono qui partono diecimila robot no ok allora va così questa ce l'abbiamo tutto pronto ora non possiamo creare nulla allora potremmo andare anche da questa parte vediamo madonna ragazzi siamo circondati qua ok ragazzi abbiamo fatto in tempo diciamo che questi qua da lontano non ci vedono va bene ok no ragazzi ho sbagliato e mo' ci hanno ci hanno beccato aia ragazzi qua è troppo complicata sta situation via eppure gli elicotteri sono arrivati addirittura vai qui ok aspetta non fanno niente ragazzi queste frecce qua Beh, se n'è andato Ok, 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 ragazzi Con calma, eh Uè, 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 uè Uè, uè, uè Aia Ammazza Ok Andiamo, andiamo, andiamo via Vediamo, può essere, qui non ci vedono, eh Ok Penso che non sanno adesso dove siamo Un po' complicata questa mission Ok, aia Allora, cerchiamo di andare All'obiettivi primari Non è facile, eh Facciamo una cosa Noi abbiamo Questo qua, quindi No, in realtà, però, aspettate Magari li facciamo venire lì C'è un serbatoio Poi vengono da tutte le parti Sta facendo, sta ballando Facciamo una cosa Anche qui c'è Allora, in realtà Dove ci stanno sparando Ok Vabbè, ora lo facciamo fuori Quindi E Facciamo sempre questo Ma chi è che ci spaa Addirittura pure mi No Lo so, ragazzi Purtroppo Complicato Molto complicato Allora Noi abbiamo qualche puntabilità Che possiamo Sfruttare Quanti punti abbiamo? Due Allora, vediamo Infliggi Ok I tuoi danni in base aumentano Del 5% Poi abbiamo Non emetti rumore Quando No Infliggi 25 toni No La durata di potenzialmente Legata al cibo aumenta Del 25% Ah, poi abbiamo anche E tu No Il nostro Patuffolino Ammazza ragazzi Quanti potenziamenti Danni La tua resistenza a fuoco Veleno E elettricità aumenta Del 30% Ragazzi Io faccio questo Ok E va bene così Namos Ehi Ammazza Allora Andiamo sempre con calma Ci riproviamo Stiamo più attenti Ok No Ok Quindi Questo è qua sopra Ok Questo abbiamo fatto fuori Facciamo un altro di qua Questo lo facciamo pure fuori Sempre se non ci vedono Ma no Non penso Che ci vedano Dall'altra parte Perché comunque Qui abbiamo capito Che Qua sopra Insomma Sti Sti robot giganti Non ci vedono Ok Ok Tu Fai il pisolino Ok Ci da qualche cosa No Andiamo con calma Vediamo se possiamo Lo giungere lì Che qui Se ci beccano Ragazzi È finita Non posso Scusa Ma perché No Vabbè Ok Saliamo su Andiamo di qua Saliamo Vediamo che succede Facciamo un po' Gli stealth Se ci riusciamo Anche se la vedo Un po' difficile Questo sta lì Questo sta qua Va bene Allora Questo sta facendo Sta uscendo Però qui non abbiamo nulla Via Oh cavolo Caspiterina ragazzi Se ci becca Qui è fatta Volevo eliminare Un po' di umane Prima No 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 Io Fire Non ti preoccupare Cosa abbiamo qua Granata stordente No qui però Spuntava il torre Quello grande Qui Siamo dentro Cos'è Il mediatore medicinale Ok 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 Aia 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 Speriamo O O O O O O Aspettiamo Io però non vedo Non posso fare un attentato Aspettate un attimo Ma questa panna si gira mi becca Ok Bene così Non si aprono tutte le cose Ma noi qui tiriamo subito la leva E via Cos'è bloccato qui Sta succedendo Ok Ok Inventario pieno Ho ormai detto delle munizioni Dai Ok Va bene così Qua possiamo prendere qualcosa? Ok Limite raggiunto Allora andiamo Lì Piano però Non lo so ragazzi Ogni volta sono indeciso Insomma Andiamo da questa parte Inventario pieno Qua non ci sta nessuno Va bene Inventario pieno E inventario pieno Va bene Mi sa che qui non c'è più niente Questa è qui questi che ci servono Ok Vediamo qualcuno Vediamo qualcuno Questo lo facciamo fuori Ok Ok Lo prendiamo? Preso Ok Qui ce n'è solo uno Comunque Almeno uno di questo qua Grosso No Sono due Stavo scherzando Inventario pieno Inventario pieno Creiamo Ok Ma se rompiamo questo Che succede? Anzi Io lo sento qua sotto Questo Succede nulla Ok Dove sta? Ok Accoglitore di semi Vai Ruotiamo Ragazzi Aia Facciamo fuori a questo Cos'è sto qua? Questo lo facciamo fuori? Abbiamo l'ultimo però No Direi di non toccarlo A questo punto E Allora Sono uno Gli ultimi due Ci rimangono Chiamiamo E tu? Dove stai? Dove ti Dove ti Sei depositato? Vai così No Aspetta Aspetta Ci hanno visto Allora Facciamo così Ok Quindi Al momento qua Bisogna un'allerta Allora Allora Quindi sono gli ultimi due Si fa per dire però Oh oh Dobbiamo scendere qui Ok Vediamo se Si sono memorizzati No Sono solo in giallo Vabbè Sono solo in alletta Ok Vai Ok Aia Vediamo che non ci vede Cos'ha lasciato? Altri due Questa Allora E Il ventaro pieno Quindi questa volta Andiamo da questa parte Uh 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 Sono tanti Ma questo ci vede Grande così Aia Aia Ok Ok Benissimo Ora sono gialli Se mi lancio Premo H Tipo che succede Viene tu Viene tu Cioè Scusate Viene Batuffo lì No Aia Intanto 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 comunque Mangiamo Perché qui La situazione Si sta facendo Molto critica E poi E poi E poi Riandiamo E lo so Lo so Molto Molto Scusate 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 ah non moriamo ragazzi mi sa che moriamo questo lo devo fare fuori eh accecante mi hanno buttato mazza che accecante sono due in allerta e due gialli là sotto andiamo andiamoci a fare un po' di danno andiamoci a fare un po' di danno Aia, stavolta non vedo nulla. Sono tosti questi. Dai, dai! Dai, l'abbiamo fatto fuori. Cambiamo armi. Non c'è più nulla. Mazza. Tosto. Molto complicato. Ehm, pure manovra giravolta. Mi servono... Ragazzi, piano piano, uno alla volta li facciamo fuori, penso, eh. Poi non lo so. Un po' complicato, un po' complicato, lo so. Spero di accelerare perché, ragazzi, siamo rimasti bloccati qui. Allora, quello è lì. Mi servono, in realtà, delle... Prendi tutto. Ok. Vai. Via. Vai così. Ok. E l'ultima è lì. Certo, lì c'erano munition. Aspettate un attimo. Riuscire ad assalto. Uh, un po' giocchino, ragazzi. Facciamo un po' di danno. Ops, scusate. Facciamo un po' di danno, eh. Ah, yeah. Ah, yeah. via vai l'abbiamo fatto a fuori c'è qualcun altro? vai così dai che forse ce l'abbiamo fatta ragazzi bene così pezzi e tiriamo ok quindi questo l'abbiamo fatto viola l'antenna in cima l'avamposto e noi chiamiamo eh scusate che è tu baduffolino arrivo arrivo sei un grande baduffolò scusate un attimo devo vedere un attimino ja ja Mi sa che qua moriamo Dove sta Sto elicottero Non lo vedo No, no, ragazzi All'ultimo no, non dovevamo morire All'ultimo Ma dove ripartiamo? Ok Quindi da qui Ormai ci siamo, dai Dobbiamo battere solo questo qui Dai, così Vai Vai Ok Dobbiamo fare Quindi qui Ok E questo l'abbiamo sbloccato Ma Dobbiamo sbloccare questo Vai Ma che è successo qua? L'abbiamo violato? Mi sa di sì Poi Ci siamo Vai Andiamo veloci C'è il tempo Vai così E abbiamo sbloccato tutto Ce l'abbiamo fatta ragazzi Da un bel po' di morti Ce l'abbiamo fatta Ah ecco come possiamo attaccarlo E tu Eh, mi sa che qui E tu Andato Va bene ragazzi Io direi di Lasciarci qui Con quest'altro episodio Io mi sono divertito Spero anche voi E niente Un saluto Da Stromantis Inoltre Mettete Iscrivetevi al canale Mettete Mi piace E commentate Alla prossima Alla prossima